Bella a tutti ragazzi, io sono Chef Gabriele del canale YouTube in cucina con Chef Gabriele. Oggi non mi trovate in cucina, non mi trovate a fare un hashtag ChefRisponde, una video guida, una video ricetta, un qualcosa, ma mi trovate a fare questo vlog, brevissimo, per dirvi solo che il network di questo canale, del mio primo canale, Fullscreen Network, mi ho inviato un email dicendo che io avevo 10 intro da scegliere, una sola di queste 10, ne dovevo scegliere una, la più carina di Fullscreen da mettere nei miei video. Quindi voglio dire che da oggi avremo un intro, la intro per ora solo di Fullscreen, quindi io ho scelto la migliore, ve la faccio vedere, prego regia, vai con la intro! Bene ragazzi, questa era l'intro migliore, la più carina e anche in HD di tutte le intro che mi hanno inviato. Niente ragazzi, questo è quanto, vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi, commentate e soprattutto vengono a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook, in Cucina con Chef Gabriele, e iscrivervi al mio canale YouTube e Google Plus, in Cucina con Chef Gabriele, a seguirmi su Instagram, in Cucina con Chef Gabriele, e su Twitter, in Cucina con Chef G, a scadermi con l'aspect Chef Responde su ask.fm, e ogni tanto ho trovato il blog della piattaforma di Gianluza Ferano, in Cucina con Chef Gabriele. Questo è tutto ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video, bello a tutti!